La direzione dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha ricevuto a fine giugno la richiesta di una seconda opinione da parte della famiglia della piccola Tafida Raked, al fine di accertare le condizioni cliniche della loro bambina di 5 anni, ricoverata in terapia intensiva pediatrica al Royal London Hospital di Londra e alla quale era stata proposta una sospensione delle cure intensive, atteggiamento non condiviso dai genitori. Il Gaslini ha composto un collegio tecnico di specialisti che hanno inviato il 5 luglio un documento ai colleghi di Londra, con i quali successivamente si è svolta anche una videoconferenza collegiale. I documenti evidenziano l'estrema gravità delle condizioni cliniche, in linea con quanto indicato dai medici inglesi e il fatto che in Italia non si opera una sospensione delle cure se non in caso di morte cerebrale, quadro diverso da quello di Tafida. Il direttore generale del Gaslini, Paolo Petralia, ha ricevuto una lettera da parte dei genitori della piccola, i quali hanno chiesto la disponibilità ad accogliere la bambina nell'ospedale genovese, proponendo di trasportarla in sicurezza e a proprie spese presso il pediatrico. L'Istituto Gaslini ha risposto positivamente alla richiesta dei genitori. Il Presidente della Regione ha fatto sapere di sostenere pienamente la disponibilità manifestata dal Gaslini ad accogliere la richiesta dei genitori, a cui ha espresso vicinanza.